La soddisfazione dell'ASL, le perplessità dei sindacati, non smette di provocare reazioni e prese di posizione la decisione ratificata dal Consiglio Comunale di Andria di cambiare la destinazione d'uso dell'immobile di via Barletta nel quale sarà ospitato il nuovo poliambulatorio. Il direttore generale dell'ASL, Ottavio Narracci, si dice pienamente soddisfatto per la possibilità di allocare in un'unica sede una serie di servizi attualmente ospitati in diverse sidi sparse sul territorio, alcune delle quali non risulterebbero idonee. Il nuovo poliambulatorio ospiterà anche servizi urallocati nel Bonomo, dove sottraggono spazio ad attività propriamente ospedaliere. Narracci ribadisce che la sede del poliambulatorio sociosanitario resterà allocata nella sua attuale sede e che il servizio CUP di via Potenza sarà rafforzato e potenziato. Il direttore generale conclude il suo intervento rivendicando la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite dall'azienda. Esprime invece preoccupazione la CGL rispetto alla delocalizzazione in area periferica del poliambulatorio, unitamente ad alcuni uffici e servizi sanitari ora situati in ospedale. La distanza dalla città, sottolinea il sindacato, sarà a causa di problemi soprattutto alle famiglie con bimbi piccoli, a cittadini anziani, pensionati e disabili che si vedranno costretti a raggiungere la sede esclusivamente con mezzi privati e pubblici con relativo aggravio in termini di costi e sicurezza. Sarebbe opportuno, conclude la CGL, che il sindaco di Andrea Nicola Giorgino ascolti i cittadini e le forze sociali del territorio convocando un apposito incontro sulla deliberazione adottata.